Come potete vedere stanno ritornando, Trico, Barba Brutta è già tornato, ma vabbè, aumentiamo ancora la macro mitologia del canale di Sommobuta. Mi ero ripromesso di fare dei video sull'attacco dei giganti a blocchi di 10 volumi, quindi recensione volume 1.10, recensione volume 11.20, recensione volume 21.30, e quindi puoi mettermi in pari, ma non ci riesco. Devo parlare con voi, devo parlare con voi dei volumi 11 e 12 perché mi hanno fatto letteralmente esplodere il cervello, e chi ha assistito alla mia blind reading reaction di venerdì può assicurare. Può assicurare di aver visto un Sommobuta letteralmente basito F4 da tutti questi avvenimenti che sono proprio letteralmente, mamma mia, mamma mia, mamma mia, bellissimi. Davvero bellissimi, io non mi aspettavo che l'attacco dei giganti fosse così bello, però prima di parlare delle mazzate, prima di parlare di questa fantomatica coordinata, prima di parlare di queste visioni contrapposte del senso della vita, dell'universo e di tutto quanto, voglio prenderla un attimo larga. Naturalmente questi sono video spoiler, quindi fermatevi se come me non avevate mai letto l'attacco dei giganti, se come me fino a settimana scorsa non siete arrivati a questo punto, perché parliamo di cose molto spoiler. E quindi fermatevi, davvero, tornate un'altra volta quando vi siete messi in pari. Voglio prendere un attimo larga in questo video, perché ci sono dei valori nell'attacco dei giganti che mi hanno veramente molto stupito, molto, come dire, veramente, veramente, veramente ci sono rimasto. E la prendo larga, per raccontarvi quello di cui voglio parlarvi. Bruttissimo, ma va bene. C'è un film di una ventina di anni fa, che si chiama Il Castello. È un film bellissimo. Parla di un generale degli Stati Uniti, un pluridecorato generale, uno dei più grandi generali della storia militare degli Stati Uniti, interpretato dall'immenso Robert Redford, che viene mandato in un penitenziario nel quale sono presenti solamente militari. Il capo di questo penitenziario, il direttore di questo penitenziario, è un colonnello interpretato dall'altrettanto immenso e mai troppo compianto James Gandolfini. James Gandolfini è un direttore autoritario, col pugno di ferro. Sotto il suo comando non si sono mai verificati incidenti, non si sono mai verificati rivolte, non ci sono mai stati tentativi di fuga, a differenza dei suoi predecessori. E James Gandolfini ha, all'interno, diciamo, del suo ufficio, tante reliquie di armi, pistole, proiettili, reliquie, diciamo, antiche. E quando il generale, interpretato da Robert Redford, uno dei più grandi eroi della storia americana degli ultimi 60 anni, vede queste reliquie, dice una cosa del tipo solo una persona che non è mai stata sul campo di battaglia può collezionare delle cose così perché questi sono oggetti reali che qualcuno ha utilizzato durante una battaglia reale e che hanno fatto del male a qualcun altro. E solo qualcuno che non conosce questo determinato tipo di empatia può collezionarle. E James Gandolfini, che era andato a prendere un libro militare per farglielo firmare a Robert Redford, non lo fa più e si incazza perché Robert Redford ha ragione. Questo libro si chiama Il fardello del comando e in tutto il film si esplica il perché Robert Redford non solo è stato davvero, almeno nel film, nella macro mitologia del film il più grande generale degli ultimi 60 anni ma cosa significa esercitare proprio, no? Il fardello del comando, ovvero il fardello del comando significa assumersi la responsabilità delle proprie azioni significa assumersi la responsabilità dei propri comandi quando tu hai su di sé, su di te il peso, per l'appunto, della vita di tanti e tanti e tanti uomini e quando tu hai un obiettivo da perseguire a prescindere da quello che sarà il costo umano devi riuscire a raggiungere questo obiettivo e poi, e poi, devi fare fondamentalmente come dire, devi fare i conti con te stesso perché sei tu, nel caso che hai mandato a morire migliaia e migliaia e migliaia di persone ecco, nel leggere questi due volumi dell'attacco dei giganti mi è tornato in mente proprio il nucleo centrale di quel film e mi è tornato in mente proprio come dire il valore di questo fardello del comando che naturalmente all'interno dell'attacco dei giganti viene proprio manifestato da uno di quelli che per me al momento è davvero il più grande personaggio dell'attacco dei giganti assieme ad Armin e ne parleremo che è Elvin Elvin Rock'n'Roll Elvin Super Sam strabiliante stravagante mamma mia che cazzo di personaggio che è Elvin o Ervin non so le Scan una volta lo chiamano Elvin una volta lo chiamano Ervin una volta lo chiamano Alvin Alvin Super Sam Alvin Rock'n'Roll che personaggio immenso che personaggio gigantesco in tutti i sensi Elvin è più gigante dei giganti stessi fa quella manovra tattica incredibile nell'andare a recuperare i giganti farsi inseguire dai giganti per poi scagliarli contro gli sbullonati se non seguite le mie blind reading reaction abbiamo rinominato Bertolt e Rainer gli sbullonati perché la prima volta che Isayama li disegnava sembravano gli sbullonati del crash test uguali quindi li abbiamo rinominati così e io quando ho visto questa tattica questa manovra militare sono rimasto letteralmente sconvolto perché mai mai mi sarei aspettato una cosa del genere Elvin è un folle ma l'abbiamo visto anche nel corso del tentativo di cattura di Annie del gigante Annie a prescindere da quello che sarebbe stato il costo umano bisognava per forza perseguire l'obiettivo ecco di nuovo che ritorna questa faccenda del fardello del comando Elvin è proprio colui che assume su di sé questo fardello nonostante bisogna nonostante lui si renda conto lo sappia ed è anche pronto a dare la propria vita lo si vede proprio in questi volumi ma lui sa che bisogna fare determinate cose perché altrimenti è la perdita di migliaia di persone contro la distruzione l'estinzione dell'umanità e quindi quando metti sul piatto della bilancia le due cose naturalmente la bilancia pende per la perdita della vita di migliaia di uomini a fronte invece proprio della catastrofe totale tombale mi piace tantissimo da morire questa cosa è un po' come nel video della Realpolitik di Pixis l'abbiamo detto Isayama da questo punto di vista è veramente bravo a tratteggiare in un mondo fantastico in un mondo dominato diciamo così da questi giganti quindi in un mondo teoricamente irreale ma lui è molto bravo a tratteggiare situazioni reali realistiche e personaggi che sono veri a 360 gradi questo mi piace tanto questo mi piace davvero tanto così come invece mi ha fatto uscire fuori di testa il fatto che Isayama è veramente un criminale fatemelo dire perché tu ci lasci con come dire un volume credo l'11 dopo che Eren e Reiner versione gigante si sono presi per un intero volume ammazzate con quella scena poi bellissima finale nel quale Bertold versione gigante colossale Silvio si fa esplodere bellissimo e poi se lo si portano via Eren e Eren comincia a fare domande ma chi siete che fate sì ma da dove venite ma in quanti siete un fiorino e Isayama non solo non risponde ma continua a mettere ancora di più domande su domande su domande dice noi che abbiamo il potere dei titani ma come e poi ti rendi conto è un casino è un casino e io ho detto è un criminale cioè questo dopo cinque pagine dall'inizio del volume 12 quello che è comincia a metterti ancora più ancora di più ancora di più domande 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 avranno risposte non lo so spero di sì spero di sì volume 12 fuori di testa veramente fuori di testa io davvero di nuovo mi ripeto non so voi come abbiate fatto a sopportare questo fumetto mensilmente è impossibile è impossibile leggerlo a capitoli mensili ed è impossibile leggerlo a volumi singoli non si può questo va letto proprio nella sua interezza e poi quando lo hai letto te lo vai a rileggere per vedere tutti i tasselli che Isayama ti ha messo angolo dell'ill ah un'altra cosa Armin personaggio veramente più figo finora davvero quello che di nuovo salva la situazione è quello che di nuovo riesce a come dire riesce proprio a bloccare la situazione per quei secondi preziosi che servono poi a salvare il tutto e quindi quando Rainer e gli altri stanno per andarsene li blocca dicendo guardate che noi abbiamo la vostra amica Annie le stanno facendo di tutto le stanno facendo i peggio esperimenti voi davvero la volete lasciare lì da sola ma siete proprio delle carogne non è vero naturalmente però tanto basta a guadagnare quel tempo per fare in modo che succedano tante cose io di lazioni ne ho tante ne ho fatte tante anche nel corso delle mie dirette questa faccenda ecco della coordinata di di Eren che riesce a controllare i giganti ho detto una cosa una cosa che mi fa ridere perché se ci penso dico vabbè e noi abbiamo visto che dentro le mura del mondo di questo attacco dei giganti ci sono tutti questi giganti totali tombare noi abbiamo visto che Eren è in grado di comandare i giganti e ho detto io voglio vedere almeno spero che ce lo faccia vedere lo voglio lo pretendo Eren o chi per lui che comanda i giganti che stanno dentro le mura perché sarebbe bello da vedere secondo me è un po' come in One Piece io lo dico sempre io solo due cose voglio vedere io di mio Usopp contro Van Augur e Zoro contro Mioc Zoro contro Mioc non lo so se lo vedremo mai ma Usopp contro Van Augur lo do proprio per assodato e così nell'attacco dei giganti almeno se io fossi Isayama io farei un fumetto unicamente per vedere questa scena ovvero l'esercito di giganti totali tombali che va distrugge cose questo lo voglio lo pretendo da Isayama questo lo pretendo così come così come tante cose non mi tornano a questo punto ma davvero non mi tornano perché non capisco forse sono io forse non ci sono elementi adatti perché la questione abbastanza credo comincia a diventare abbastanza chiara sotto certi aspetti ovvero ci sono dei giganti probabilmente questi giganti che sono quelli che assaltano le mura che sono quelli che si mangiano i cristiani ci viene fatto capire al momento che probabilmente sono esseri umani o sono stati esseri umani c'è quella scena l'abbiamo già parlato del villaggio di Bruce Harper che si chiama Connie Connie vede questo gigante che sembra paurosamente sua mamma ed è incastrata nella casa ma non poteva essere lì così come non ci sono tracce di sangue così come i cavalli rimangono lì quindi sono i giganti che si sono trasformati o sono stati trasformati probabilmente da bongo non lo so come quindi penso che a questo punto e poi in realtà vabbè piccolo spoiler per voi del volume 13 ne abbiamo letto anche metà del volume 13 ne abbiamo letto lunedì e c'è Angie che fa proprio questo dice proprio questo dice che i titani secondo lei sono gli esseri umani allora io ho collegato un po' tutto ho detto ok noi abbiamo questi qua che stanno chiusi dentro questa città 100 anni le mura tutte cazzate figuratevi oramai è dato per assodato che sono cazzate ci sono questi giganti ma se i giganti sono esseri umani chi li ha trasformati in esseri umani perché sono stati trasformati in esseri umani non lo so questo non lo so però una cosa davvero un'altra cosa non mi torna ovvero gli sbullonati Rainer e Bertolt dicono una cosa anzi dicono due la prima dicono che loro vogliono tornare al loro paese natale e poi vogliono cercare la coordinata dov'è questo paese natale? c'è quindi un altro gruppo di persone un'altra civiltà un'altra civiltà che ha questo potere dei giganti e che quindi possono trasformarsi in giganti o che magari trasformano le persone in giganti non lo so però una cosa non mi una cosa proprio non mi torna ovvero viene detto che almeno quello che ho capito io in pratica i giganti che sono stati trasformati dagli esseri umani rimangono così mentre loro quindi Eren Bertolt Rainer Annie Ymir eccetera hanno questo potere di gigante così viene detto quindi un po' come i robottoni di Gonaga diciamo così un po' come degli Evangelion loro sono quelli che stanno dentro al robottone e possono avere questo potere però loro vanno alla ricerca di qualcuno che sia in grado di avere il controllo sui giganti e questo qualcuno in questo momento è Eren quindi tutti quelli che sono diciamo così i traditori che sono ops ho ucciso il cellulare che vengono da un'altra nazione hanno il potere del gigante ma non hanno il controllo sui giganti quindi forse loro cercano di avere il controllo definitivo sui giganti per una qualche motivo ma non so perché non so perché saranno altre persone saranno altra civiltà sarà un'altra città come quella uguale dentro le mura da qualche altra parte boh chi vivrà vedrà è un fumetto bellissimo io mi ci sto perdendo tutti i giorni o meglio il lunedì il mercoledì e poi qualche volta il venerdì oggi continuiamo il volume 13 lo finiamo alle ore 15 su twitch fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo fumetto io come al solito non leggerò i vostri commenti ma vi lascio tutto lo spazio che volete per prendermi per il culo per le stronzate che dico e noi ci vediamo come al solito domani fatemelo sapere comunque il vostro sempre ti hanno un commentino qui sotto su youtube sulla mia fanpage facebook su mobuto oppure su instagram se non siete lo sapete su instagram siete come al solito le persone non male non malissime e noi ci vediamo domani penso domani domani giovedì domani giovedì domani video spoiler di dark per fare sempre le solite 500 visualizzazioni ma va bene chi se ne frega e fatemi sapere fatemi sapere lo state leggendo voi l'attacco dei giganti siete nelle mie condizioni non l'avete mai letto adesso state impazzere non lo so fatemi sapere voi ho bisogno di confrontarmi con delle persone ma se vengo a leggere i vostri commenti ho paura che mi spoilerate vabbè basta ciao alla prossima